Ben trovate, ben trovati. Ieri purtroppo all'estate del Friuli c'è stato un episodio grave, e cioè c'è stato un episodio di razzismo nei confronti dei portieri del Milan. Io voglio esprimere a nome dell'intera città la solidarietà al giocatore e a tutti i tifosi del Milan per questo episodio che non rispecchia assolutamente il pensiero e l'animo di Udine del Friuli. La nostra regione è ricca di volontariato sociale, di iniziative di solidarietà e di accoglienza. Quindi quello che è successo non fa parte del patrimonio culturale, anzi abbiamo parlato con la società del Milan e dell'Udinese, il comune di Udine proporrà una sostenanza onoraria a portiere del Milan ed iniziative insieme con la Fondazione Milan per le scuole di educazione contro il razzismo. Udine è una città che ha il 14% di residenti che non sono di regione italiana, è una città multietnica, è una città dove le persone convivono e credono nella coesione sociale. E pertanto il Friuli e Udine saranno i primi a portare avanti la bandiera contro il razzismo e per il bene comune.